Credo che si possa definire tranquillamente quasi un asse di ferro quello che c'è fra la provincia e le coni che collaborano su tanti progetti. Presidente Vasai, una dimostrazione in più anche le manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni? Sì, ne abbiamo messo in piedi tantissime di iniziative e queste due sono sicuramente importanti perché? Perché c'è il coinvolgimento dell'intera comunità provinciale, dell'intero territorio attraverso i comuni nella quale in questa giornata i cittadini dei posti anche più lontani dal centro possono venire a conoscenza e toccare con mano quello che lo sport offre, non solo i soliti sport noti ma anche il resto. Per non parlare poi della manifestazione straordinaria e importante con i nostri bambini anche qui di scuole della provincia che si ritrovano al nostro campo scuola tutti insieme. L'anno prossimo a quello nuovo. L'anno prossimo a quello nuovo, sì anche perché si sta finendo finalmente. Insomma tutti insieme nel nome dello sport, nel nome della salute, dell'attività motoria, nel nome del futuro dei nostri ragazzi. Presidente Ceballi, quindi giornata nazionale dello sport, i giochi della gioventù, due appuntamenti di grande rilievo nello spazio praticamente di pochi giorni. Sì, io mi riallaccio a quello che diceva il Presidente, cioè a Rezzo c'è una realtà, c'è due istituzioni come la provincia e il CONI che hanno a cuore i ragazzi, la salute dei ragazzi, e l'educazione dei ragazzi si impegnano nella promozione dello sport e si sensibilizza nel quotidiano, direi, della nostra opera anche a che lo sport non abbia pieghe negative, perché esiste anche questo nell'ambito dello sport, bisogna essere obiettivi. Noi cerchiamo questo, perché la nostra comunità cresca nell'ambito di una certezza quale lo sport può dare ai fini educativi e di salute.